Allora, linea gialla, linea rossa. Adoro i colori semplici, dopo ne vedrete due, verde e rosso. Insegno ai bambini di 9 anni a fare trading, sono bravissimi, meglio degli adulti. Che il bambino non si fa seghe mentali. Non si domanda, ma come guadagno così tanto mentre solitamente perdo? Chi cazzo se ne frega? Cioè, guadagno, punto, vengo avanti. Gli adulti sono troppo complessi. C'è sempre un perché, un per come, e chi l'ha mandato, e perché non lo fa, no? Anni fa quando tenevo i corsi c'era gente che mi diceva Ma perché lei mi insegna a guadagnare il 3%? Allora se ne esca. Cioè, che problema c'è? Se non vuoi, non fai, no? C'era una domanda una volta di un signore che mi disse Ma lei, io nella mia esperienza io parto, io vengo da una famiglia molto povera. Noi abbiamo vissuto addirittura 4 anni senza neanche immobili. E non è una battuta. Ho imparato questa situazione e mi ha insegnato quello che è un po' il peso del denaro. Il denaro in realtà non è niente, è un mezzo di misura. È come il litro, il chilogrammo, no? Niente di più, niente di meno, no? C'è chi ha un etto di prosciutto e chi ha 100.000 euro. Poi magari non vale un etto di prosciutto, questo è un altro capitolo, no? Ma il denaro alla fine è solo una valutazione. Se avessimo anni fa deciso che erano i fagioli, i borlotti, la valutazione, oggi conteremo la nostra ricchezza su quanti borlotti hai, no? Questa cosa mi ha dato la possibilità negli anni di partire veramente da nulla. Io ho incominciato a fare trading che avevo 16 anni, anzi in realtà 12, però ufficialmente 16, perché a 12 anni non potevo ancora comprare niente. Invece a 16 anni finalmente in Germania me l'ho permiso. E a luglio di quest'anno ho trasformato la mia azienda in banca. Quindi nato, venuto su dal niente, come? Non sono particolarmente intelligente, ma solo con la costanza e l'applicazione. Guadagnare nell'ambito finanziario è semplicità e metodo. Vi farò vedere due cose molto semplici, che potete applicare da subito, ma è tutto lì. Chi la vuol complicare? Chi vuole fare delle robe strane? Mi dispiace, si può fare, ma ci vuole molta preparazione. Keep it simple, non lo dicono gli americani? Ecco, tenetelo semplice, fate sì che resti semplice e andrete lontani. Questo è un ambito di forecasting, vi faccio solo vedere la casualità. Crisi dei mercati. Sapete che i mercati sono crollati, vabbè non seguite magari tutti la borsa, più o meno intorno a marzo si sono rianimati, c'è stata una botta di ossigeno. E qui abbiamo praticamente dalla botta di ossigeno, da marzo fino adesso, lo sviluppo dei mercati. Vedete che negli anni 30 accade esattamente la stessa cosa. Dopo la prima caduta il mercato, linea rossa, recuperò. Per poi però decidere di invertire strada. Che è esattamente quello che vediamo oggi. Non c'è nulla di anormale in questo movimento di risalita. Non è la fine però della crisi. Fine della crisi vuol dire che ci sono molti posti di lavoro, che aprono nuove imprese, che si aprono nuove partite IVA, che ci sono un sacco di giovani per le strade, pronti a trovare lavoro. Se lo vedete dalle vostre parti, ditemi dove cazzo abitate, che ci vengo anch'io. Oggi come oggi vediamo partite IVA che si chiudono, sempre meno lavoro, più difficoltà a trovarlo. Sì, possiamo raccontare di tutto. Siamo in una fase ottima. Qualcuno mi dice, ma allora perché i politici non ce lo dicono? O gli economisti non lo dicono? Perché non possono. Cosa accadrebbe se un giorno qualcuno va davanti alla televisione e dice Signori, game over. Grazie. Sarebbe un altro che pandemia.